Dopo tante battaglie siamo riusciti finalmente nella regione Emilia-Romagna a far partire un monitoraggio del glifosato anche sulle acque potabili. Parleremo di questo, parleremo di lavoro, parleremo di ambiente, parleremo di sanità e parleremo anche di questo. Ci vediamo questo weekend tutti insieme a Palermo. Sarà l'occasione per incontrarci, per scambiarci idee e portare le vostre istanze all'interno delle istituzioni. Come sapete il Movimento 5 Stelle rifiuta i rimborsi elettorali ai partiti ma si sostiene sulle vostre microdonazioni, per questo vi chiediamo di fare la vostra parte ed aiutarci a realizzare la nostra Italia 5 Stelle.